La cultura non ha bisogno di essere indorata, non ha bisogno di bei vestiti, non ha bisogno di red carpet, di tappeti rossi se ben ricordate, ma ha bisogno di essere fatta, di essere pensata, di essere aiutata da docenti preparati che stimolino i ragazzi a imparare, a vedere cose nuove e luoghi adatti per farla, luoghi adatti per il brainstorming. Ed è quindi molto importante che non sia solo incentrata sul territorio genovese, ma per tutta la Liguria, perché tutti i ragazzi hanno il diritto di imparare e di sapere. Abbiamo bisogno di persone importanti, ma soprattutto che abbiano idee decise. Chi ha le redini ha una grande responsabilità. Ricordiamoci cosa sta accadendo al Teatro Chiaverera di Savona. Non abbiamo un bando preciso che possa individuare una persona giusta per fare il direttore. Così ovviamente non funziona, perché la cultura non è uno scherzo, è una cosa importante. quella che formerà la società del futuro, i nostri giovani, i nostri figli. Quindi ricordiamoci, è importante, poniamoci attenzione, ed è per questo che mi sono candidata con la lista SANS. Grazie. 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 Grazie.